Grazie mille, grazie mille, grazie, grazie mille, grazie. A che cosa dire è stato un buon viaggio, quattro ore da Zara, onestamente è piacere venire qua, abbiamoождato bene, abbiamo bevuto buon vino e così, è tutto piacevole. Ok, bella impressione che ti posi. Sì, sì, ringrazio perché sono venuti e da domani cominciamo a lavorare.